Sì, intanto bisogna dire che per quanto riguarda il potenziamento, perché questo è fondamentale, il potenziamento del Santimotio, noi stiamo focalizzando davvero l'attenzione sulle criticità, lo diceva prima il commissario, lo sottolineava anche il presidente Felice, ci sono delle criticità, ma noi già nei prossimi giorni probabilmente metteremo giù una soluzione importante per cercare di riorganizzare l'attrattività di quel presidio ospedaliero. È ovvio che l'attrattività passa attraverso due ingredienti fondamentali, secondo me. Il primo è cercare di riorganizzare le attività, ma soprattutto di rivedere anche la strutturazione in termini di responsabilità delle singole unità operative. Quindi sulla cardiologia stiamo lavorando affinché ci fosse una possibilità legata ad un ampliamento della complessità della struttura stessa, dell'unità operativa. Quindi questa trasformazione probabilmente giocherà un ruolo importante per creare un'attrazione non solo da parte dell'utenza, ma io penso che, ed è forse la cosa principale, una possibile attrattività da parte dei dirigenti medici, che verranno a lavorare in una struttura che ha tutte le possibilità, dall'emodinamica alla ritmologia, per essere nuovamente punto di interesse. Anche e soprattutto perché abbiamo la necessità di garantire le reti emergenziali. È ovvio che la rete IMA è tra le più importanti, sicuramente, e quella che spesso viene presa in considerazione. Su questo devo dire anche un'altra cosa. Sarà dei prossimi giorni. Abbiamo già riorganizzato la possibilità di alcune criticità legate anche all'energia elettrica. Sapete dei giorni scorsi, forse una delle prime cose, la criticità per l'interruzione dell'imaging, delle strutture della risonanza magnetica. Nei prossimi giorni già stanno lavorando affinché ci potesse essere una stabilizzazione dell'energia elettrica. Abbiamo dato il via all'acquisto anche degli UPS, cioè degli stabilizzatori. E questa sarà un'altra cosa importante che garantirà una possibilità di poter fare diagnosi senza interruzioni. Queste sicuramente sono le novità. Poi, per quanto riguarda altro, ci rimettiamo alle possibilità dovute all'utenza che deve trovare giovamento e certezza delle cure.